La situazione raccolta rifiuti a Valle Crozia non è buona, oggi era stato programmato uno sciopero, gli stipendi sono in ritardo, c'è stato un incontro di prefettura, com'è andata? Noi abbiamo posticipato lo sciopero proprio rispetto alla sua eccellenza il prefetto che si è fatto a carica di questa problematica che purtroppo è un paio di mesi che affligge i lavoratori e le loro famiglie. Abbiamo parlato e abbiamo discusso per poter riuscire ad arrivare a una soluzione e sperando che quello che si è discusso oggi viene messo in pratica con degli accordi, sicuramente ci vediamo un po' soddisfatti se va tutto in porto ma non solo come sindacalisti ma più che altro per i lavoratori e le loro famiglie. Ma la situazione qual è? Gli stipendi non arrivano? Gli stipendi non arrivano, pagano in parte, quattordicesima non è arrivata e quindi sono soldi che chi aveva fatto dei calcoli su quella retribuzione si è trovato meno. Ok.